buongiorno siamo qui riuniti da meccacchio siamo qui riuniti da meccacchio perché dobbiamo mangiare sono le tre meno un quarto sono le quattro dici e le quattro dici sono le quattro dici e 42 no 43 stronzo perché questo è il secondo anno che facciamo un capodanno insieme ed è il primo anno con pica pica primo anno con consiglia consiglia fatti vedere un saluto evviva e vediamo consiglia vicino al suo fidanzato al suo futuro fidanzato salvatore casa prima è l'ultimo anno perché l'anno prossimo viene la fine del mondo un aggiornamento un aggiornamento sono le quattrodici e 44 ragazze 14 e 44 guarda 4 va bene ora intonella vieni invisibili colpiscono anche antanella d'amora questo bella picciotti capito no perché è stata ripresa così nella che gioco con le palle vabbò ci vediamo dopo non rimaniamo ciao bella dalla ricca voglio